Una banca può distinguersi andando a fare una proposta ai clienti che sia un po' diversa dagli altri, quanto meno come comunicazione, quindi andarsi a posizionare in modo nuovo, in modo coerente con i bisogni che emergono, bisogni che possono essere specifici oppure bisogni che possono essere semplicemente di comodità. Quindi il modo per andare a prendere nuovi clienti è sicuramente saper comunicare bene, perché ormai i servizi sono molto simili, riuscire a trovare un prodotto, un servizio, un'esperienza che possa differenziare rispetto ad altri, questo possa quindi andare a interessare una fascia di clientela specifica e poi saperlo comunicare bene naturalmente. Continueranno a fare affidamento e ne faranno sempre più affidamento, ma nel contempo continueranno anche a sviluppare internamente, andando a distinguere quelle che sono le esigenze chiave, quello che può rappresentare un elemento differenziante della propria proposizione di valore e quindi probabilmente ha senso tenerlo internamente, rispetto a quello che invece è elemento, non dico ancillare, però che può essere sostituibile e quindi trovabile sul mercato. Andrà su due assi, il primo è continuare a cavalcare un cambio di abitudini del cliente, quindi il cliente che passa dalla banca tradizionale, seppur accompagnata da un buon canale digitale, a una banca completamente digitale online. Il secondo è andare ad ampliare lo scope di clientela, quindi affiancando ai clienti privati, anche clienti aziende, piccoli operatori economici e andando oltretutto anche a posizionarsi come piattaforma, quindi andando a lavorare su base clienti di altri.